Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della casa, tra pochissimo bisognerà pagare, vi spiegheremo come è l'Imu, perché tra pochi giorni, ma soprattutto cercheremo di capire se è ancora un buon investimento quello di comprare un appartamento, magari di affittarlo. Insomma, cercheremo di capire un po' di più sul mercato immobiliare. Se volete scrivere alla trasmissione in diretta potete mandarci un'email che è vediamoci chiaro, chiocciola tv2000.it oppure cercate Vediamoci Chiaro su tutti i social, siamo presenti su tutti i social. Allora, per parlare dell'immobiliare della casa con i nostri ospiti che ringrazio, con il segretario generale di Confedilizia Alessandra Egidi. Benvenuto al segretario e benvenuto al presidente nazionale della FIAIP, che è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Gian Battista Baccarini. Buongiorno, grazie. Ben ritrovato. Allora, io inizierei subito sulla questione tasse, poi parleremo dell'Imu. Insomma, quante sono e sono pesanti? Allora, sono tante e sono pesanti. Di solito appunto noi diciamo che pesano sulla casa come se fossero un macigno. Infatti parliamo di 50 miliardi di tasse annue che gravano sulla casa tra l'Imu, tra imposte di registro, successioni, anche per quanto riguarda le imposte sui rifiuti. Ricordiamo che di queste, la parte del leone la fa naturalmente l'Imu, 22 miliardi l'anno di patrimoniale. In effetti sono tantissime tasse e andrebbero diminuite. E tra pochissimo parleremo dell'Imu. Chiedo a Baccarini, voi avete un po' il polso della situazione, siete in prima linea, fate acquistare le case a tutti quanti noi, dal nord al sud. C'è sempre però voglia di casa, nonostante tutto questo, nonostante le polemiche, nonostante quello che sta succedendo, un po' anche le diatribe, insomma le frecciatine tra l'esecutivo, i rappresentanti immobiliari, eccetera. Comunque la gente cerca ancora case, magari in maniera diversa? Sì, assolutamente sì, nonostante i segnali del governo con questa manovra di bilancio che non è così favorevole per il segmento, per l'immobiliario in generale, ma per la casa in generale, c'è ancora tanta voglia di casa. Soprattutto noi registriamo un aumento degli acquisti di seconde case. Questo dà il segnale che molti risparmiatori, e noi siamo un popolo di risparmiatori, decidono di investire una buona parte dei loro risparmi facendo meno ricorso al mutuo, acquistando una seconda casa e mettendo la rendita, spesso attraverso locazioni brevi a uso turistico. Seconda casa, le chiedo subito, per fare affitti brevi, perché entriamo in quest'altro capitolo degli affitti brevi. Per fare affitti brevi vuol dire bed and breakfast, fittarlo per avere un minimo di reddito, è così? Soprattutto per motivi turistici, ma anche per motivi sanitari, per motivi legati a corsi di formazione, uno decide di non andare in un hotel, ma di andare presso un appartamento, perché è maggiormente autonomo, c'è più libertà. Sì, soprattutto sta crescendo, negli ultimi sei anni sono triplicate le locazioni brevi, si è passati da circa 500 mila a oltre 1 milione e 600 mila, ricordiamo però che è un settore che, proprio perché è in grande aumento, va salvaguardato, è una risorsa per l'economia locale e nazionale, e non invece, come pare in alcuni provvedimenti, riempire di ostacoli e balzelli. E allora, iniziamo a parlare dei cambiamenti, proprio per gli affitti brevi, cioè è stato approvato in questi giorni proprio questo codice identificativo, ma che cos'è? Te lo spieghi? Cioè io se ho un locale, un immobile, un piccolo appartamento da affittare, brevemente, quindi innanzitutto spieghiamo chi lo può fare, che cos'è questo codice? È già esisteva prima o è nuovo? Allora, questa è una novità appunto degli ultimi giorni, e una novità, tra virgolette, in quanto appunto il codice identificativo nazionale per le locazioni brevi, quelle cioè al di sotto dei 30 giorni, era già previsto in passato, affiancava e non sostituiva i vari codici identificativi regionali, anch'essi previsti da tante regioni, e era in fase di attuazione. È una sorta di tagga che abbiamo? Sì, è una specie di numero che viene attribuito per ciascun appartamento che si vuole locare in modo breve appunto per finalità turistiche e che deve essere indicato sia per quanto riguarda negli annunci dei portali o appunto nei giornali, ovunque so sia, ma anche poi dovrà essere indicato all'ingresso del singolo palazzo. Il CIN, come è stato adesso rivisitato, nell'ambito dell'ultimo provvedimento, dovrebbe rappresentare una semplificazione, in quanto non affiancherà più i vari CIR, ma li sostituirà. Ecco, le chiedo, aumenteranno anche i pagamenti, le tasse? Le tasse aumenteranno per chi fa locazione breve, a causa appunto delle norme che stanno approvando nel disegno di legge della bilancio 2024, perché è previsto che la cedolare secca per questa tipologia di locazione passi dal 21 al 26%. C'è stato appunto assicurato che questo passaggio, questo innalzamento di aliquota partirà dalla seconda casa che io metto a disposizione per gli affitti brevi, sarà esente la prima, però anche lì aspettiamo ancora il chiarimento. Volevo solo dire una cosa, per questa piccola norma il governo vuole, appunto, si attende 8 milioni e 8 di euro, noi quindi come confederizza non capiamo il perché si stia facendo questa norma. Tra pochissimo parleremo dell'Imu, perché pochi giorni dovremmo pagarla, dovranno pagare da tanti italiani, però le chiedo, voi domani sarete proprio alla Camera, presentate proprio un rapporto sullo sviluppo del mercato turistico immobiliare, quindi molto legato anche agli affitti brevi. Nonostante questo i turisti arrivano, arrivano nel nostro paese. E' un modo anche per, diceva Egidi, per far cassa no, perché saranno poche le risorse che verranno incassate allo Stato. Allora qual è la razio? Ma la sostanza è che grazie alla locazione turistica noi riusciamo ad accogliere tutti, cioè riusciamo ad accogliere tantissimi turisti, sia italiani che soprattutto stranieri, che aumenteranno ancora di più in questa stagione invernale e vorranno vivere un'esperienza non tanto e non solo unicamente negli hotel, ma anche e soprattutto attraverso appartamenti, case, proprio perché sono in maggiore autonomia e libertà. E quindi proprio per questo il report fa emergere come la locazione breve a uso turistico, ma la locazione breve in generale sia una vera risorsa, come dicevamo prima, per l'economia locale e nazionale e quindi va ad ampliare l'offerta turistica nazionale. Un modo per investire, insomma investire nel mattone, magari guadagnarci qualcosa. Allora abbiamo parlato dell'Imu, vediamo chi la deve pagare, qual è la scadenza e che cosa succede. Lo facciamo in collegamento con il dottor Nicola Forte, dottore commercialista, revisore dei conti. Benvenuto dottor Forte. Allora innanzitutto le chiedo, chi dovrà pagare questa Imu e qual è la scadenza? Allora la scadenza è il 16 dicembre prossimo, però in realtà abbiamo, si applica la regola generale che quando il giorno di scadenza fiscale cade in un giorno che ai fini degli sportelli bancari è festivo, si va al 18 dicembre. Beh, la devono pagare l'Imu, un posta municipale propria, i proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, quindi parliamo innanzitutto delle seconde case o anche immobili aventi diversa classificazione catastale come uffici, capannoni industriali oppure sui terreni edificabili. Abbiamo, come dicevo, l'esclusione ormai da tempo consolidata dell'abitazione principale, ovviamente a condizione si considera tale l'immobile presso cui si risiede e si dimora abitualmente. Ecco, Forte, e se non dovessi pagarla che cosa mi accade? Cioè che pagherò delle multe successivamente? Cioè ho dei tempi di ravvedimento, quali sono? Sì, certo, innanzitutto ho sempre il cosiddetto ravvedimento operoso, il cosiddetto ravvedimento operoso sprint, nel senso che se in realtà non decorre troppo tempo dalla scadenza a quando pago, in particolare nei primi 15 giorni avrò sostanzialmente una sanzione ridotta che dovrò versare spontaneamente appunto pari allo 0,1 mensile con l'aggiunta, chiedo scusa giornaliera, con l'aggiunta degli interessi calcolati al saggio legale. Poi chiaramente ho una graduazione del ravvedimento operoso. Ecco, dottore, prima di ringraziarla e salutarla, c'è una domanda che è arrivata da casa, da Giorgio, gliela giro subito e dice da quest'anno ho preso la residenza all'estero ma sono proprietario di due immobili in Italia. È vero che non ne dovrò pagare, che non dovrò pagare l'Imu? No, non è completamente corretta la risposta. Fino al 2019 avevo un'esenzione integrale, poi è intervenuta la legge di bilancio, si è aperto una procedura di infrazione, è stata cancellata l'esenzione. In base alle norme attuali ho una riduzione del 50%, ma solo se sussistono determinate condizioni. Queste condizioni, tra le varie condizioni, è previsto il fatto che il soggetto che fruisce della riduzione del 50% deve essere un pensionato residente all'estero in regime di convenzione internazionale e ci deve essere coincidenza tra lo Stato in cui ho la residenza all'estero e lo Stato che mi eroga la pensione. Inoltre ho questo beneficio per un solo immobile e l'immobile non deve essere concesso né in locazione né incomodato. Grazie per la sua precisione, ci vuole un trattato, è un trattato internazionale per capirci qualcosa, ma è stato puntuale, preciso come sempre. Grazie, Nicola Forte, dottore commercialista, revisore dei conti, le domande dei nostri telespettatori penso sono molto precise. Allora, le chiedo subito, ma come sta cambiando la voglia di casa dell'Italia, nonostante l'Imu, nonostante tutto quello che la gente sta cambiando? Si diceva durante la pandemia vogliono case più grandi, il terrazzo, vogliono andare in periferia, ma è davvero così? Ma c'è una grande attenzione soprattutto in relazione al credito, c'è una difficoltà di accesso al credito, c'è un meno 30% di mutui erogati in relazione in particolare alla prima casa, quindi diciamo le persone, le famiglie stanno molto più accorti e attenti e soprattutto in relazione al cambio della prima casa per le proprie esigenze, quindi se uno ha due figli o tre figli e magari vive in un appartamentino un po' piccolo cerca di cambiare e vivere un appartamento più grande. Quindi si ricercano degli spazi ampi, delle comodità e la vicinanza ai servizi per la vita frenetica che attanaglia tutti noi. Voi che cosa vi risulta? All'ilà del limo, abbiamo sentito in maniera molto precisa, l'ha detto quanto pesa le tasche gli alieni, ma questi soldi, ecco lo chiedo al rappresentante di Confedizia, che affluiscono ai comuni. Ora, i comuni dovrebbero investire i soldi e in qualche modo cercare di migliorare l'aspetto dell'edilizio abitativo, delle strade, del decoro, immagino, invece poi alla fine si perdono i mille rivoli, cioè questo è il problema. Si paga, ma gli enti locali, in questo caso sono i comuni, se non sbaglio, poi in realtà non li utilizzano per migliorare la situazione, il patrimonio abitativo, diciamo di tutti, dove viviamo? Sì, allora l'IMU appunto è l'imposta che nella maggior parte, nella stragrande maggioranza appunto del suo oggettito viene recepito dai comuni, però non v'è una destinazione di scopo di questa imposta, quindi poi dopo viene utilizzato nel bilancio comunale, così come meglio aggrada all'amministrazione. Quello di cui è certo, anche sentendo appunto la risposta del dottor Forte, è che nell'ambito dell'IMU c'è bisogno non solo di una semplificazione, perché veramente sentire elencati tutti quei requisiti per avere una piccola riduzione di imposta è una cosa che spaventa, spaventa i contribuenti, ma è anche un'imposta patrimoniale che deve essere ridotta, ma perché? Deve essere ridotta perché al momento è dovuta anche, per esempio, sia pure in formula ridotta, per gli immobili inagibili e inabitabili, quindi è proprio una patrimoniale che serve per ridurre che cosa? Per ridurre il valore della ricchezza delle famiglie che si sentono sicuramente più povere quando vanno a pagare questa patrimoniale. Patrimoniale che è dovuta anche lì dove io ho per esempio ereditato una piccola casetta nei borghi remoti dell'Italia e che quindi non posso né andarci a vivere, non la posso vendere perché il mercato praticamente è fermo. Non la posso in molti casi locale, ci pago appunto l'Imu e diventa un anfardello. Ecco, chiedo al Presidente Baccarini, perché c'è un fenomeno che sta crescendo molto, quella della cosiddetta nuda proprietà, le persone anziane che magari vogliono avere qualcosa di soldi perché le pensioni sono abbastanza esigue, vendono la casa ma possono restare nell'appartamento, spieghiamolo, fino a quando appunto vivranno. Sostanzialmente è un fenomeno che pure voi notate, in crescita e in che modo si sta sviluppando? Ma è un fenomeno sì, è in crescita ma è ancora molto, diciamo, soft, molto lieve, non c'è questo grande sviluppo, diciamo, che la maggior parte di persone che entrano in agenzia cercano un appartamento o una casa per migliorare, come dicevamo prima, le esigenze soprattutto di dimensione, di vicinanza ai servizi, oppure comprono un secondo appartamento, come dicevamo, per mettere la rendita, soprattutto tramite queste locazioni brevi. È sicuramente un segmento che va coltivato perché è sempre più con le difficoltà legate al costo della vita, quindi all'inflazione, piuttosto che alla difficoltà di accedere al credito, sicuramente può essere, come dire, un volano per cercare di dare respiro alle persone soprattutto più anziane. Difficoltà economiche sono tante in molte strade della popolazione, allora che cosa succede se però in un condominio qualcuno non paga? E allora lo chiediamo al rappresentante della Naci, dovremmo avere in collegamento Nicola D'Alberti della Naci, l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio, benvenuto Presidente, le chiedo subito... Buongiorno, buongiorno. Allora, le chiedo, se all'interno di un condominio c'è qualcuno che non paga, perché ha delle difficoltà economiche, che fanno? Pagano tutti gli altri e l'amministratore che cosa può fare? Gli altri non dovrebbero pagare perché l'amministratore dovrebbe attivare tutte quelle procedure per la riscursione del credito, anche procedure coattive innanzi l'autorità giudiziaria. Però poi ci troviamo nella situazione che le bollette sono puntuali, le bollette arrivano e se ci sono delle monosità in atto, purtroppo l'amministratore si potrebbe trovare nella difficoltà e quindi chiedere i soldi a coloro che in realtà già hanno pagato il credito. Ecco, ma può essere mai staccata la corrente elettrica, il gas, l'acqua a tutto il condominio? C'è questo rischio se qualcuno non paga, qualcuno è in adempiente, se ci sono problematiche di vario tipo? Ma questo è un rischio che già è solido che succede, specialmente col gas, perché il gas ha delle bollette, degli importi significativi e se c'è un 15-20% di condomini che non pagano, il rischio è che il gas venga staccato. Ecco, Dalmerdi. Prego, prego Dalmerdi. E quindi trovarsi nella condizione che molti condomini non potrebbero avere di scaldamento. Ecco, lei ha una lunga esperienza. Prima di salutarla e ringraziare, le chiedo, si dice che le riunioni di condominio, l'assemblea di condominio, sono i luoghi dove ci sono più frizioni, insomma, veramente c'è una letteratura sulle riunioni di condominio. Ma qual è, in questo momento storico, il contenzioso? Su che cosa avviene? Quali sono le problematiche all'interno di un condominio più rilevanti, visto la sua lunga esperienza? Ma il contenzioso riguarda soprattutto la questione finanziaria ed economica. Il contenzioso riguarda esclusivamente i depredi ingiuntivi che l'amministratore si trova, con un voto e costretto, a fare ai propri clienti. Dopodiché il contenzioso riguarda soprattutto la gestione degli spazi comuni e che ovviamente anche qui riguarda gran numero dei condomini perché non sempre si riesce a far rispettare il regolamento di condominio. Grazie Nicola D'Alberti della NACI, Associazione Nazionale Amministratori di Condominio. Grazie davvero per queste indicazioni. Ritorniamo in studio, Presidente Baccarini, invece la gente chiede sempre di più qualcosa quando la gente immobiliare. Possiamo dare un consiglio? Se io devo comprare o vendere una casa, a cosa devo stare attente? Perché spesso succede di tutto, dobbiamo dirlo purtroppo. Noi abbiamo un dato del nostro centro studio che l'84% di contenzioso post vendita tra privati avviene senza l'ausilio dei servizi di intermediazione immobiliare. Quindi sicuramente cercare di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare chiarendo il servizio perché anche nel nostro mondo ovviamente ci sono tante realtà. Qual è la percentuale che bisogna dare ad un agente immobiliare? C'è una cifra? Ma la legge qui è molto chiara anche perché siamo stati recentemente, recentemente, una quindicina di anni fa c'è stata una sentenza dell'antitrust, la provvigione va concordata tra le parti. Quindi tra l'agente immobiliare e il cittadino e quindi a seconda anche della tipologia dell'immobile, del prezzo e anche dei servizi correlati, perché è un discorso limitarsi a intermediare, è un discorso erogare tutta una serie di servizi legati alla raccolta e al controllo di tutta la documentazione, delizio urbanistico, catastale, di provenienza condominiale, impiantistica che riguarda una compravendita. Ci sono tanti aspetti, oltre assistenza e consulenza, fino a saldo e consegno e stipolo, cioè fino a che si arrivi dal dettaglio. Però la chiarezza è fondamentale, la chiarezza, la prevenzione è d'obbligo ed è importante. Una domanda per il segretario nazionale, allora, ho una seconda casa, mi dice questo telespettatore, anzi questa telespettatrice Valentina che ci scrive da Guidonia, ho una seconda casa in Liguria, non l'affitto da anni, io sono residente in provincia di Roma, mi è arrivata la tassa dei rifiuti della seconda casa, la devo pagare? Altra tassa chiaramente sui rifiuti, la Tari, no? Certo, è la Tari. Da così come scrive la telespettatrice, secondo me la tassa va pagata anche perché la Tari viene pagata proprio per il fatto che l'immobile è potenzialmente suscettivo di produrre rifiuti. Però un consiglio per il prossimo anno, verificare nell'ambito del regolamento della comune dove si trova la seconda casa, se c'è una norma che consente di non pagare la tasse al verificarsi di determinate condizioni, per esempio perché non sono attive le bollette dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, oppure perché nell'immobile sono stati tolti tutti i mobili. Quindi verificare se c'è questa clausola, quindi poi dopo attuare quello che prevede il regolamento comunale per poter non pagare l'imposta. Milano, Roma, Napoli, le grandi città, l'investimento è ancora qualcosa che frutta bene? Soprattutto nelle grandi città, soprattutto nelle zone centrali e semicentrali, cioè vicino come dicevamo prima ai servizi, quindi sicuramente lì comprare immobili e o per andarci a stare o per metterli a rendita fruttano molto bene, soprattutto in città metropolitana universitaria. Non lo chiedo a Baccarini, lo chiedo al segretario di Confedilizia, ma si sono svalutate le case? Prima valevano, sono crollate oppure i prezzi sono sostanzialmente stabili? I prezzi ultimamente sono sostanzialmente stabili, il crollo dei prezzi c'è stato in precedenza quando per esempio si è passato da Lici a Limo. Diciamo che i segnali che sono stati dati in questo periodo non sono tranquillizzanti e quindi di certo le case non sono cresciute di valore. Ma c'è una ricerca particolare che fanno? Lo chiedo a lei perché Baccarini sa tutto, una ricerca particolare, la gente cerca la metropolitana sotto casa, il verde, voi avete anche tanti sportelli lungo la penisola? Sì, no, in questo momento la prima cosa che si chiede quando si va ad acquistare, memore appunto la paura che arriva dall'Europa della direttiva case U e quello che viene chiesto è di che tipo di efficientamento energetico ha la casa, che tipo di classe energetica ha. È interessante l'efficientamento energetico, magari faremo una puntata perché ormai tutte le case dovranno essere super efficienti da questo punto di vista. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Alessandro Egiti, segretario generale di Confedilizia, grazie al presidente nazionale della FIAIP, la federazione italiana agenti immobiliari professionali, Gian Battista Baccarini, noi chiudiamo con questa puntata, torneremo domani, vi ricordo sempre i nostri riferimenti che vediamoci chiaro, chiocciolatv2000.it oppure sui social, siamo presenti ovunque, domani mattina a 10.30 come sempre in diretta parleremo dello spreco, anzi di come non sprecare, vi daremo dei consigli pratici a casa con i nostri esperti come sempre. Grazie a tutti, buon pomeriggio, anzi buona mattinata, buon pomeriggio e soprattutto buona giornata.